Ha visto? Dieci anni di meno dimostra così. Signorina Elda? Non si preoccupi, è un semplice rinfortimento. Ostia come sono cascato in basso. Ma quella, quando uno è disperato, alla canna del gas, sì, insomma, suicidio, deve provarle tutte prima di mollare, no? Alla canna del gas. E pensare che se due anni fa mi avevano detto che me, Basletti, prima super delle innocenti, capitava una roba così, no, dico, nel senso che sarei finito in questo modo qui. Beh, io ci avrei fatto una ghignata in faccia. Eh sì, perché proprio due anni fa la vita, il mondo, la vincenzia, e il sottoscritto, ma eravamo una roba tutta diversa. Oh 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 eh oh 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 Grazie a tutti.